la bocciaccia da insegnante qui intanto io volevo ringraziare perché non capita meno a me è tantissimo che non capita di sentir parlare in questi termini di cose che condivido a mille per mille da parte di politici e da parte di giornalisti devo dire che è una gioia e sembra veramente di respirare un'altra area anche se siamo nell'area molto inquinata della nostra città ma io vi devo ringraziare sinceramente e un'altra cosa credo che se Domenico ci dicesse vieni via con me noi tutti andiamo ad avventare nel suo concetto molto velocemente 15 anni fa noi abbiamo cominciato a preoccuparci seriamente perché non c'era il piano regolatore e nonostante questo si cominciavano a progettare tutti gli scelti che poi abbiamo visto realizzati hanno cominciato con il Bofill poi con il Crescent e progressivamente anche l'edificio dopo il Crescent l'edificio alla foce delle timbro hanno cominciato a progettare supermercati ipermercati e però contemporaneamente hanno cancellato dal piano regolatore tutte le zone destinate alla industria e agli insediamenti anche diciamo delle piccole e medie aziende non soltanto della grande industria non vi sto adesso a parlare del problema gravissimo dal punto di vista civico della presenza delle aree dei maniani che sono state driblate in gran parte tanto che noi 15 anni fa abbiamo fatto ricorso al TAR due ricorsi al TAR contro Bofill perché esiste anche il diritto di dovere anzi di indignarsi come dice come avete detto voi come dice Maurizio Biroli noi non ne potevamo veramente più abbiamo cominciato come comitato però visto che il TAR ci ha bellamente detto che la nostra seconda richiesta non andava bene per un aspetto solo formale come se avessimo messo il franco bollo girato e allora abbiamo detto allora facciamo la nostra civica e abbiamo cominciato quindi noi sono 12 anni che stiamo lavorando in questa direzione con i verdi ci siamo sto parlando della nostra civica nella terza buona con i verdi ci stiamo facendo abbiamo lavorato tantissimo sul book sul piano regolatore adesso il problema del piano regolatore non è assolutamente risolto perché questo affatto tutto l'interno suo ed è arrivato con le osservazioni è arrivato in regione